In collegamento, la senatrice Dolores Bevilacqua, Movimento 5 Stelle, bentornata a Tagadà. Buonasera, grazie, è un piacere sempre essere con voi. Anche per noi, Dolores Bevilacqua, sono gli studenti che si mettono nelle condizioni di essere manganellati. Beh, io replico con le parole del presidente Mattarella, che commentando i fatti di Firenze ha riconosciuto come quando viene utilizzato il manganello su degli studenti sia già una sconfitta per lo Stato. D'altronde, su una candidatura come quella di Vannacci, penso che le parole imbarazzate di Nevi, che ha cercato di prendere giustamente le distanze da quello che è stato espresso da Vannacci a più riprese, la dica già tutta. Vannacci è quanto di più distante dall'Europa dei diritti, dall'Europa che riconosce e tutela i cittadini europei. Quindi, insomma, francamente non mi sento di poter commentare un personaggio del genere perché veramente c'è poco da commentare. Uno che dichiaratamente ammette di non potersi definire antifascista ha già detto tutto di sé. Nevi, scusi, lei ritiene adeguata la risposta di Netanyahu? Hamas è un'organizzazione terroristica. Ma vorremmo farvi vedere una cosa, perché le proteste degli studenti italiani non sono isolate. Gli studenti italiani nei nostri Atenei non sono i soli a dire... Il dialogo col mondo arabo sta riprendendo con questo governo. Il governo italiano potrebbe smettere di mandare armi ad Israele, per esempio. Bevi d'acqua, mi pare di capire che per voi sia ancora troppo poco. Le chiedo rapidità perché siamo fuori tempo massimo. Guardi, io volevo... Finito, volevo solo ricordare che gli israeliani sono scesi in piazza contro Netanyahu, sono entrati nel Parlamento contestando la linea oltransista di Netanyahu, che è il peggior nemico della causa di Israele in questo momento. Grazie a Dolores Bevilacqua.